Mister, è stata una partita fra le due squadre che a mio parere giocano meglio al calcio nel campionato d'elite anche se oggi il bel gioco ha latitato un pochino, ma penso che fosse una partita dove difficilmente si poteva ambire a spettacolo e sprazzi di pura magia calcistica è stata una partita che potrei definire per addetti ai lavori, molto tattica, con tanta attenzione almeno da parte nostra perché la montagnola è più forte e quindi dovevamo avere delle attenzioni particolari in alcune zone del campo in cui altrimenti avremmo sofferto troppo, noi a livello di peso specifico contro questa squadra soffriamo perché chiaramente come centimetri e come chili siamo nettamente deficitari però abbiamo fatto una partita importante, sono molto molto contento dell'impegno dei ragazzi hanno fatto quello che si era chiesto, ovvero quello di cercare di svuotare il centro per riempire le fasce e cercare appunto dell'attacco della profondità dove potevano essere un pochino più in difficoltà abbiamo fatto gol così e quindi sono contento di questo ma poi soprattutto la squadra ha lottato contro quella che secondo me è una squadra che a livello di rosa è spaventosamente più preparata di noi quindi bravi noi che siamo arrivati ai playoff con tanti problemi con tanti ragazzi che sono ben sopra i 40 e nonostante questo giocano partite importantissime e quindi come sempre la Locomodi ha fatto il suo, ha provato a farlo con il suo gioco e come hai detto te non è stata la partita più bella del mondo però è stata secondo me una partita che fa capire che il livello di questo campionato è veramente molto alto ti faccio una domanda un po' all'allenatore del pallone è stata tutta colpa di quel gol a freddo? ma il primo l'avete fatto voi no però è vero perché ogni volta che andiamo in vantaggio contro loro poi ce ne fanno tre quindi diciamo che probabilmente è così però vi hanno preso sulla stanchezza perché è stata una partita davvero molto molto attenta al di là dei soliti errori in fase di costruzione ma non si cresce se non si fanno questo tipo di errori però non avete rischiato da quel punto di vista vi hanno preso sulla stanchezza proprio nel finale due gol in un minuto sono proprio il sintomo di un crollo fisico più che mentale passavano i minuti chiaramente la situazione per noi era sempre più complicata ci siamo sbilanciati un po' abbiamo messo due punte centrali proprio per cercare di riempire un pochino di più l'area di rigore alla fine hanno fatto anche bene perché qualcosa abbiamo costruito abbiamo chiaramente rischiato qualcosina di più dietro ma soprattutto Montagnola ha fatto entrare due frecce tricolori quindi è lì con i difensori che invece erano un pochino più stanchi chiaramente abbiamo sofferto nonostante secondo me la nostra linea difensiva abbia fatto una partita soprattutto voglio citare Lorenzo Ferrazza oggi che solitamente è molto oscuro come giocatore perché magari non è uno che emerge da un punto di vista qualitativo oggi secondo me ha fatto una partita strepitosa e poi ultima di esamina comunque è una squadra che non molla perché al di là di tutto tu sei contento di avere questi ragazzi ma per l'anno prossimo nella lista dei desideri di Amazon di Andreozzi c'è Davide Desideri che è chiaramente la mezz'ora a destra noi non abbiamo una lista noi abbiamo un principio nel senso se vieni a giocare nella nostra squadra devi venire agli allenamenti impegnarti agli allenamenti e prendere l'impegno seriamente nel senso che vincere le partite con 12 giocatori durante la settimana a fare gli allenamenti non è il nostro stile nel senso che noi dobbiamo cercare di sempre ogni anno dobbiamo costruire una squadra poi che la squadra arrivi settima, ottava, quinta, quarta poi lo dice il campo come giusto che sia quindi la lista dei desideri è che ci siano tanti ragazzi che ci abbiano voglia di indossare questa maglia che sta diventando una maglia pesante voglio citare e poi ti saluto Leonardo Grazzi faccio una citazione che oggi a causa dell'infortunio di lunga durata di Vincenzo Barone Davide Gatta lo supera in presenze 209 contro 208 quindi Vincenzo Barone è passato secondo ma che meraviglia questa è una statistica che a me fa impazzire in fase di cronaca e allora già dalla prossima gara magari in Europa Elite ne parleremo di più grazie mister Andreozzi grazie a tutti grazie a tutti